buongiorno a tutti allora vado via veloce veloce da leccarsi le orecchie perché è folpettina da brrrr che freddo che fa perché dobbiamo parlare dello slalom gigante maschile di Adelboden dell'11 gennaio quindi siamo lì e sto inseguendo alla grande le gare di sci quindi prima manche subito partiamo con il primo a scendere che è Kranjek vediamo quale sarà il suo tempo che è già un riferimento importante perché attenzione questo atleta è stato terzo quarto e terzo nelle ultime tre gare quindi è da tenere in considerazione il suo tempo è 1 12 e 49 con il pettorale 2 scende Hogan ma praticamente dopo meno di 30 secondi salta una porta e deve fare ciao ciao alla gara peccato perché nel primo intermedio era davanti di 8 centesimi con il pettorale 3 scende Favre e con una gara precisa e regolare si prende il primo posto provvisorio con 11 centesimi di vantaggio in attesa che scendano naturalmente Christofferson e Pinturot che sono teoricamente quelli da battere con il pettorale 4 scende Ford ma vola via dopo poche porte nel vero senso della parola visto che cade proprio di schiena senza farsi infortunatamente nulla di grave a parte l'incavolatura per essere uscito subito con il pettorale 7 scende Meillard una monomache peccato l'errorino quasi alla fine che gli fa perdere parte del vantaggio ma è primo con due centesimi di vantaggio quindi Meillard è zitto zitto cacchio cacchio al primo posto con il pettorale 8 scende Gino Caviezel e dopo essere stato sempre in luce verde proprio quasi sul traguardo scivola via e butta via una manche da teorico primo posto o comunque poteva essere lì nei 5 tranquillamente con il pettorale 13 scende il nostro Dea Liprandini vediamo cosa combina il nostro atleta sarebbe importante mantenere il distacco in mezzo secondo perché sono tutti lì vicinissimi e invece lui no lui fa una gara da libidine no da doppia libidine no da doppia libidine coi fiocchi perché si prende il primo posto con 11 centesimi di vantaggio non sarà da libidine però visto che capita raramente un Dea Liprandini al primo posto nella prima masce almeno parzialmente diciamo che è una gara da doppia libidine coi fiocchi poi vedremo nella seconda dopo la discesa dei primi 22 atleti Dea Liprandini ancora primo col tempo di 1 12 25 miliarda e seconda a 11 centesimi febbre terza a 13 centesimi cranie che è quarta o 24 centesimi ve l'ho detto che questo era pericoloso e lì e lì e lì a romper le balle quinto zupcita 26 centesimi sesto smida 38 settimo braten a 39 christoffers ne ha 40 centesimi pinturo è 51 quindi i due favoriti sono ottavi e noni e al decimo posto c'è un ligati a 57 da notare 10 atleti in 57 centesimi è tanta ma tanta roba perché di solito un decimo posto di solito è oltre il secondo invece sono in 10 in 57 centesimi con il pettorale 25 tocca tumbler ma purtroppo dopo meno di 30 secondi tocca con lo scarpone si inclina e va via e dice anche lui ciao ciao alla gara con il pettorale 7 27 27 scende il nostro tonetti tonetti 27 vediamo se riuscirà a fare bene una buona gara è decimo a 51 centesimi dal suo compagno di squadra non male non male ma soprattutto la cosa libidinosa è che è davanti al simpatico no è è a pari con christoffers decimo comunque lì a 51 centesimi con il pettorale 28 tocca al nostro veterano manfred morgue vediamo se riuscirà a inserirsi in mezzo ai suoi compagni di squadra purtroppo è solo 21esimo a 1 e 43 di ritardo rendetevi conto il 21esimo a un secondo e 43 sono tutti vicini vicini dopo la prima discesa dei primi 30 classificati dei aliprandini resta sempre primo miliardi secondo poi abbiamo l'accoppiata al terzo posto ried favre al quinto c'è craniec al sesto c'è zubcic al settimo c'è smita all'ottavo c'è braten al noveno c'è christoffersen e al decimo c'è tonetti mentre pinturo è undicesimo la classifica finale dopo la prima manche dei aliprandini è sempre primo felice e contento poi c'è l'incredibile borsotti che col pettorale 53 si è inserito al secondo posto a 4 centesimi dai aliprandini ha fatto la gara la manche della vita vedremo poi la seconda come andrà al terzo c'è meiarn al quarto la copiata ried favre al sesto c'è craniec al settimo c'è zubcic all'ottavo c'è smita al nono c'è braten al decimo c'è christoffersen per quanto riguarda gli altri italiani undicesimo è tonetti e molga è rimasto nei 30 trentesimo è riuscito a stare dentro a 1 e 43 quindi non è un distaccone potrebbe riuscire a recuperare qualche posizione inizia la seconda mascia il primo a scendere appunto il nostro marfrey moong speriamo riesca a recuperare qualche posizione anche perché come dicevo fino si può fare sono tutti vicini vicini purtroppo ahimè cade e si fa male perché praticamente lo scigli si gira e quindi a termine della gara vi dirò che cosa si è fatto il nostro sciatore tocca a brent steiner 29esimo dopo la prima match vediamo se lui riuscirà a finire la gara il suo tempo totale è 2 29 e 56 una seconda match sulla carta leggermente più lunga visto che l'altra era 1 e 12 eccetera questa è 2 29 però siamo lì siamo 1 e 13 1 e 14 1 e 15 sono questioni di secondini ma di centesimini ecco che secondi sì no di secondi paio di secondi in più di gara ecco per intenderci tocca a sarazen 28esimo dopo la prima match ma dopo il primo intermedio va lungo di linea tocca con lo scarpone salta letteralmente una porta gara andata anche per lui quindi tre atleti che scendono ne arriva solo uno tocca a leitinger vantaggio di 12 centesimi e 27esimo dopo la prima match una buona gara fino al terzo intermedio poi sull'ultimo tratto proprio si scatena in una maniera pazzesca e si prende il primo posto con ben 75 centesimi di vantaggio e questa potrebbe essere già la prima frustatina diciamo per recuperare un po' di posizioni perché 75 centesimi di vantaggio sono tanta roba scende favreau 22esimo dopo la prima match ma cade e finisce nelle reti fortunatamente nulla di grave a parte la gara buttata il fatto che sono dovuti andarlo a recuperare togliergli lo sci e farlo rialzare perché si era proprio a pesce finito nella rete non riusciva più a uscirne tocca a childe sedicesimo dopo la prima match vantaggio di 55 centesimi una buona gara fino al terzo intermedio in cui aveva più di un secondo di vantaggio un secondo 0 4 di vantaggio ma poi nell'ultimo tratto dove appunto l'ettinger è andato a mille lui a mille non ci va perde quasi tutto ma alla fine della fiera si prende il primo posto con 25 centesimi di vantaggio quindi dopo la discesa degli atleti dal trentesimo al sedicesimo posto la classifica vede childe al primo posto l'ettinger a 25 centesimi soleim a 53 centesimi poi la coppiata olson schwarz a 72 centesimi al sesto posto c'è brent steiner a un secondo al settimo first time a 1 e 36 all'ottavo kosher siegel a 1 e 55 al nono doger a 1 e 95 e al decimo royal green o royal green a 2 e 40 vedete che in questa seconda match i distacchi cominciano a essere un pochettino più pesanti nella prima erano tutti molto ma molto vicini vicini tocca a mofa jaldè un centesimo di vantaggio e quindicesimo dopo la prima match una gara da montagne luce perché luce verde i primi due intermedi luce rossa il terzo e poi è primo per soli due centesimini quindi diciamo che ha guadagnato un centesimo alla fine e si è preso il primo posto tocca al nostro tonetti vantaggio di 23 centesimi sullo sciatore francese 11esimo dopo la prima match sarebbe importante finire la gara e magari stare davanti ma ahimè è solo decimo con un secondo e 13 di ritardo perde veramente un botto di posizioni però ha finito la gara sono sempre punticini che vanno su mantieni il tuo pettoralino e vabbè piuttosto che niente l'emmè piuttosto tocca a christophersen vantaggio di 29 centesimi e decimo dopo la prima match alla fine riesce a prendersi il primo tempo con lo stesso identico risultato di mouffin jandé quindi incredibile ma vero ci sono tre atleti in due centesimi perché al primo posto c'è mouffin jandé e christophersen a pari merito e a due centesimi c'è kilde infatti la classifica quando mancano otto atleti alla fine vede mouffin jandé e christophersen al primo posto al terzo kilde al quarto leitinger che ha guadagnato un botto di posizioni visto che era ventisettesimo o 26 e 26 o ventisettesimo al quinto c'è ligeti al sesto c'è soleim al settimo pinturo all'ottavo la coppia svars olson e al decimo c'è braten per il momento tonetti è dodicesimo quindi male che vada sarà ventesimo tocca a zupcic vantaggio di 48 centesimi sulla coppia in testa il riferimento probabilmente su christophersen che era messo meglio rispetto a mouffin jandé che appunto era quindicesimo se non ricordo male o quattordicesimo e alla fine con una gara sempre in luce verde conferma la sua posizione è primo con 35 centesimi di vantaggio quindi zupcic per ora è primo tocca a craniec vantaggio di soli due centesimi e sesto dopo la prima mash non gestisce nulla si butta giù come un pazzo fa una marea di errori però lascia correre lo sci che è un piacere e alla fine si prende il primo posto con 29 centesimi di vantaggio quindi incrementa pure di 27 centesimi scendono gli altri ma nessuno riesce a stare appunto davanti a craniec che quindi è sicuramente per l'ennesima volta poi come diceva fatto un terzo un quarto un terzo adesso minimo farà un altro terzo perché adesso si spera che i nostri due italiani stiano davanti il primo a scendere borsotti vantaggio di 20 centesimi sul su craniec e secondo appunto dopo la prima mash ahimè è solo quattordicesimo con un ritardo di 1 e 51 comunque punti importanti per migliorare il pettorale che ricordatevi era il 53 quindi un buon quindicesimo posto male che vada teoricamente potrebbe entrare nei 40 potrebbe potrebbe vedremo tocca al nostro di aliprandini vantaggio di 24 centesimi vediamo se arriva almeno al podio per il nostro atleta purtroppo dopo il secondo intermedio che era in luce verde per ben 30 centesimi salta una porta e tira giù un po di san clemente san clemente fammi stare molto paziente perché purtroppo ha buttato via la gara e quindi la classifica finale ahimè nonostante due italiani nella prima mash al primo posto nessuno dei due riesce a stare nemmeno nei dieci quindi la classifica finale vede cranie al primo posto zupcica al secondo la coppia mufagian de christophersen al terzo leitinger al quinto no scusate kilde al quinto leitinger al sesto ligati al settimo febbre all'ottavo soleim al nono e pittorò è solo decimo e quindi cranie si è preso il primo posto in slalom gigante perché con i risultati che ha fatto si è messo davanti all'accoppiata christophersen pinturo che adesso hanno l'anno scorso avevano hirscher che faceva il bello e il cattivo tempo e loro dovevano sempre giocarsi il secondo terzo posto una volta ogni tanto magari il super campione si degnava di far vincere uno dei due raramente adesso che non c'è più il super campione che pensavano di giocarsi loro due il primo posto spuntano tutti gli altri perché il re è caduto e i principi vogliono la corona e sono in tanti principi a voler la corona adesso per lo slalom gigante anche lo slalom speciale comunque questo questo sci ci piace ci piace ci fa libidine e quindi detto questo io vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao